Giun buono ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Crotone-Juventus Partita che si giocherà mercoledì allo stadio del Crotone Allora, secondo me la Juventus dopo aver battuto e la Sampdoria 3-0 Ha un'occasione per vincere sta partita Secondo me vincemmo questa e poi giochiamo contro il Napoli E vinciamo contro il Napoli Comunque io penso che finisca 2-0 Juve Penso che sia Niguain e Mandukic Comunque scrivete nei commenti le vostre petizioni Lo spero che vince la Juve Andiamo a vincere pure sta Coppa e niente Comunque la Juventus si è giocato bene Spero di vedere Verdes che gioca ancora Perché Verdes ha fatto col bellissimo ieri Vorrei che vinciamo a cosa molto probabile Se ce l'ha fatta il Napoli 1-0 Possiamo farcela Anche noi Possiamo vincere Che si ricorda che De Cio ha segnato il gol Contro il Crotone allo Juventus Stadium In serie A Link in descrizione per quel video E niente Il video si conclude qui Grazie a tutti Ciao Forza Juve Vinci 2-0 Grazie a tutti Grazie a tutti